Un punto per dare continuità alla risalita in classifica, ma in casa Pineto alla soddisfazione per essere usciti imbattuti dal campo della forte Cinzia Albalonga fa da contraltare il rammarico per una gara giocata meglio e che per le occasioni create avrebbe meritato di vincere prima di dover evitare la beffa nel finale grazie al guizzo di Minincleri. Ancora un po' di turnover da parte del tecnico pinetese Pomante che lascia in panchina Minincleri, Bertolo e della Quercia, ripropone Capitan Pepe e Romano e lancia dal primo minuto Pierpaoli e Sernaz Chi appara si affida alla coppia Cardella e D'Agostino. L'avvio pinetese dirompente e chiuso il primo giro di lancette trema più volte la porta di Santilli. Sernaz lancia Romano che impegna l'estremo difensore della Cinzia. Raccoglie Sernaz e spara a botta sicura. Galliardini salva sulla riga tra le proteste della panchina pinetese. L'azione prosegue e Mastri Polito conclude a lato dalla distanza. Avvio ispirato di Sernaz che dopo un paio di minuti calcia dal limite sopra la traversa. Cinzia al balonga sorpresa dall'inizio pinetese ma che riesce a prendere le misure all'avversario anche se al trentatresimo la squadra di Pomante si fa vedere di nuovo col corner di Minnozzi e il colpo di testa di Mesisca bloccato da Santilli. Proteste del Pineto al trentasettesimo. Rosania già ammonito bracca così Minnozzi per peletti di crema e solo richiamo verbale e il difensore della Cinzia scampa l'espulsione. Al quarantesimo i padroni di casa si rendono pericolosi su azione d'angolo. Galliardini va ad un soffio dal gol. Ripresa. Pomante opta per un doppio cambio dopo pochi minuti dentro della quercia e Minincleri confezioneranno la rete pinetese al posto di Sernaz e Pierpaoli. All'ottavo la punizione di Minnozzi è sorvegliata da Santilli. Replica sempre su azione d'angolo la Cinzia col bomber Cardella che centra all'esterno della rete. E' splendida l'azione del Pineto al quarto d'ora. Pallone in verticale per Romano che entra in area ma tira addosso a Santilli che si salva in due tempi. E di nuovo una fase molto positiva per l'undice Adriatico. Pepe si spinge in avanti e pennella per Esposito il cui tiro è deviato in corner. Entra anche Mbouba che al ventisesimo è servito da Minincleri. Affrontato da Santilli va a terra. Tutto regolare e palla gol mancata. Nel momento migliore il Pineto viene colpito sugli sviluppi di un calcio piazzato. Batti e ribatti e la palla arriva a Gagliardini che viene anticipato in scivolata da Mesisca. Il quale però trafigge il proprio portiere Mercorelli per il vantaggio della Cinzia. Mentre Pomante e i suoi calciatori lamentano un fuorigioco dello stesso Gagliardini. Il Pineto non si abbatte. Alla mezz'ora Minnozzi e Desposito costruiscono un'azione che porta al tiro mastrippolito. Centrale blocca Santilli. Il pareggio arriva però al trentasettesimo. Il cross è di De La Quercia. Sempre più uomo assist. Il colpo di testa vincente è di Minincleri per il meritato 1-1. In pieno recupero la Cinzia tenta il colpo di coda ma Paoli sbroglia una situazione intricata e blinda l'1-1 per un Pineto che soprattutto per la prestazione può guardare con fiducia ai tanti impegni futuri. La Cinzia al balonga invece perde l'opportunità di distanziare il Castelnuovo ma resta al terzo posto.